È iniziato questa mattina l'affiancamento da parte di due infermieri di Parma al personale della centrale 118 di Piacenza in vista dell'accorpamento con Parma e Reggio Emilia che si concretizzerà a dicembre quando la sede chiuderà i battenti o meglio si spegnerà l'attività di smistamento chiamate mentre la struttura resterà attiva e verrà adeguata per gestire i trasporti ordinari e coordinare le attività di guardia medica. Nei prossimi giorni ne arriveranno altri, a partire da dicembre invece saranno i nostri operatori, 18 in tutto, a recarsi nella città ducale per un periodo di affiancamento e supporto di otto mesi. Oggi è una giornata importante perché è il primo giorno in cui abbiamo qui da noi nella nostra centrale delle persone di Parma, degli operatori della centrale che iniziano proprio oggi a fare questo periodo di affiancamento cioè verranno a rotazione tutti quanti a fare dell'attività, a vedere un attimo come funziona la centrale 118 di Piacenza. A partire da dicembre per noi un periodo di circa otto mesi in cui il nostro personale di centrale operativa svolgerà azioni di affiancamento e di tutoraggio presso la centrale di Parma quindi si trasferiranno per questo periodo appunto attorno agli otto mesi a svolgere attività di supporto proprio presso la centrale di Parma. Terminati gli otto mesi il personale piacentino verrà impiegato in altre attività sul territorio. Finito il periodo di tutoraggio dei nostri infermieri presso la centrale 118 di area omogenea dell'Emilia Ovest a Parma cercheremo di rafforzare l'emergenza territoriale con ulteriori infermieri nelle aree che consideriamo critiche. Manteniamo una centrale operativa H24 sui trasporti da noi chiamati secondari, urgenti e non urgenti e c'è un'idea di centralizzazione della chiamata alla continuità assistenziale anche con risposta infermieristica da parte di un infermiero che ha un suo storico formativo legato alle risposte della centrale 118. Andrea Gallo è uno dei due infermieri arrivati questa mattina alla centrale di Piacenza sono sicuro che non ci saranno problemi, ha detto ai nostri microfoni. Siamo qua a Piacenza dai colleghi e amici per vedere un attimino come sono strutturati dal punto di vista dell'invio dei mezzi, delle ricezioni e chiamate. A Parma come state vivendo questo cambiamento? Molto tranquilli, nel senso di sicuro un cambiamento epocale però siamo molto tranquilli perché comunque abbiamo un percorso formativo lungo, dettagliato, preciso. Deve proprio passare questo messaggio che il cittadino di Piacenza chiama, risponde Parma, cambia solo il posto e l'operatore che risponde. Non cambia nulla dal punto di vista rapporti umani ma soprattutto non cambia nulla dal punto di vista attivazione dei mezzi. Ciao, grazie a te, ciao. Siamo a tutti che non sono approcci. Fabia ha detto che hanno...